Benvenuti a The Inn. Una ragazza così bella e così ricca non può esistere. Ha passato gli ultimi due anni con il naso sui libri. Scusatemi. Vieni. Che fai? Gli rubi l'auto. La prendo in prestito. Avanti. Allora, David, che piani hai per il futuro? Non voglio molto, solo una bella ragazza da cui tornare. Hai interpretato bene la parte a cena. Io non l'ho mai fatto. È la prima volta che si comporta in questo modo. Non mi sono mai sentita così prima. Ti prego, vieni qui, mi fai impazzire. Non ti ha mai preoccupato? Che non conoscesse il mondo. Mi piace. Mi piace un sacco. Tu sembri uno che nasconde dei segreti. Dimmi che non è così. È successo tanto tempo fa. Chiedimi di restare. Hai vissuto tutta una vita senza di lei. Secondo te chiama la polizia? Hai scavato nel suo passato. David non è un criminale. Perché puoi tenerlo segreto? Ti avevo avvisato. David! Ho paura. Non devi. Ti avevo avvisato. 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 Grazie.